Un considerevole numero di domande per il bando di sovrintendente ha invaso l'ufficio protocollo del teatro Vittorio Emanuele di Messina nell'ultima ora prima dello scadere dei termini alle 13. Fino a ieri le istanze erano solo 5. La cifra è aumentata con parecchie provenienti da fuori Messina e diverse già presentate in passato. Si parla di esperti che hanno ricoperto cariche dirigenziali nel campo del teatro e qualcuno che ha lavorato negli enti locali anche della regione siciliana. Il primo profilo che salta alla memoria è quello di Egidio Bernava ma ci potrebbe essere ancora la famosa voce sulla candidatura dell'assessore allo sviluppo economico Guido Signorino. Il consiglio di amministrazione del teatro si riunirà il 13 giugno per aprire le buste e discutere dei curricula che potrebbero impegnare anche una settimana come nella precedente scelta del dimesso Antonino Saia. Nessuno si esprime con i nominativi per non esserne influenzato fino alla selezione di gruppo. Dal primo giugno non è più in carica Saia e manca anche un componente del CDA dopo le dimissioni di Itoto D'Urso in aperta polemica con i vertici dell'ente. Il posto mancante deve essere nominato dal sindaco Renato Accorinti. Si aspetterà forse la spinta del neo sovrintendente per regolamentare la confusione sui papabili anche al CDA.